questa è una parte di lancio della gara siamo dentro il percorso comunque guardate che spettacolo ripeto la natura in questo caso è la base principale di questa gran fondo con paolo salvatore sono l'olio organizzatori abbiamo visto l'interno e quella è la parte dell'acqua per caduta la rampa siamo ripeto tra cani cattini bagni in piazza ma sarà tutto all'interno di questa spettacolo della natura qui è la parte di trasferimento che stiamo percorrendo a piedi che sarà anche gara comunque ripeto due tracciati la corte e la lunga 21 e 42 i chilometri e questo sarà il piazzale l'area della partenza ufficiale ci sarà il tracciato di trasferimento e si scenderà appunto dalla zona attrezzata per poi piazzarsi qui e da qui parte ufficialmente la gara parte da qui la gran fondo ed è uno spiazzale molto ampio e devo dire la verità anche suggestivo perché da qui poi ti butti dentro anche la zona della macchia mediterranea in mezzo e guaderai anche il fiume vi faccio dire una cosa io sono dentro un ruscello questo è il fiume di manghise l'attraversamento all'interno del territorio tra palazzolo e cani cattini guardate quant'è bella qui la natura nella sua proprio nel suo spettacolo naturale questa è la gran fondo che ci sarà domenica 29 gran fondo di mountain bike tra palazzolo e cani cattini con l'organizzazione dell'ASD a Marutavana noi ragazzi sono con me stiamo facendo una perlustrazione del territorio ecco qui guardate che bello vi consiglio di venire a passare a giornata con noi perché c'è anche una bella zona attrezzata con la possibilità dei passaggi passeggiata con cavallo c'è la fattoria didattica c'è anche dove dormire che non è sotto gli alberi ora siamo dentro guarda i ragazzi sono qui con me stiamo facendo il giro di concetto peppe salvatore buongiorno ragazzi cioè mi avete portato allora qui c'era adamo ed eva di adamo mi hai fatto un cazzo ma eva ne esiste ancora c'è eva la troviamo eva la stiamo cercando c'è sotto un albero ecco cioè questo è dove passa la gran fondo di mountain bike di giorno 29 e stiamo cercando dove non bagnarci i piedi per poter vedere ancora meglio il tracciato perché qui siamo ancora solo a 600 metri di partenza dopo la parte di procedura d'arrivo di partenza di avvio del trasferimento siamo tra canicattini e palazzolo ed è una zona molto bella dal punto di vista naturale ma molto attrezzata anche dal punto di vista della logistica stiamo testando la temperatura dell'acqua e quando vi dicevo che c'era una parte molto naturalistica dove c'è la parte attrezzata la possibilità anche di farsi all'interno durante la giornata le passeggiate a un cavallo guardate la bellezza il puledro con la mamma lui va in bici però oggi va su ha dei cavalli in più e non è elettrico stiamo percorrendo a piedi quello che è il primo passaggio quando poi la gara entra nel vivo e si sale all'uscita all'attraversamento del fiume si sale da qui che spettacolo della natura ragazzi cioè proprio qui si scende dalla bici e si fa l'amore anche perché proprio è bellissimo quindi si esce dal fiume e si passa da qui quindi andiamo avanti in questo modo si sta ancora delineando troverete tutto fettucciato è giusto che vi venga detto questo è il famoso buco il famoso cerchio il fosso del carbone qui veniva creato proprio veniva bruciata la legna e la preparazione del carbone vi farò vedere un'altra cosa molto particolare allora i ragazzi dopo aver fatto il tracciato dove abbiamo anche fotografato una lapide Paolo Fede lo sta facendo la simulazione quindi si passa attorno a quest'albero dai Paolo ormai fallo il giro così non possiamo bravo esatto perfetto e ci ripetiamo abbiamo attraversato il fiume lui è sceso dal cavallo ed è diventato una persona qualunque perché se lui non ha i cavalli non cammina questa è una delle prime difficoltà della gara ed è la prima rampa si attacca su una roccia naturale e quindi si sale si sale e insomma la salita è già evidente come percentuale di rampa si alza in modo chiaro e diretto la salita è sempre Paolo Fede il mio simulatore umano in questo momento ci fa vedere come proseguire punto di riferimento è quest'albero si percorre non così che sembrava Raimondo Vianello poi si esce qui si va eh e penso che il passaggio qual è? ah si va diritto giusto? perfetto ok punto di riferimento siamo usciti dalla location dalla logistica naturale questo è il primo tracciato tecnico perché da qui si entra e si va ad incontrare la prima parte di single track dove la mountain bike è chiamata veramente a lavorare tecnicamente sui manubri sull'equilibrio e sul saper pedalare allora queste montagne che sto inquadrando sono la parte del tracciato qui siamo intorno ai 15 chilometri e diciamo la mountain bike la gara arriva da questa strada da quella che sto inquadrando i ciclisti imbucano va bene e poi entrano verso e continuano verso questa già qui secondo me è una forma di single track perché è un viale naturale molto stretto e come vedete è sconnesso già con rocce naturali che vengono fuori e quindi molto attenti alle tre attori sì in effetti diciamo che qui c'è una parte che in effetti è una sicuramente una single track di questa mountain bike gran fondo che noi seguiremo tutti assieme insomma anche con le immagini nel 29 aprile buongiorno signore abbiamo fatto le uova oggi? troverete anche le uova fresche al passaggio? no non credo però se fate delle cazzate vi tireranno le uova mi raccomando qui siamo in uno dei passaggi siamo all'interno di una proprietà privata dove ci hanno dato l'ok per il passaggio questa è un aspetto completamente naturale di quello che sarà il 29 aprile come you buongiorno sì buongiorno sono buongiorno la